La strada statale 113 è letteralmente invasa dai rifiuti e il consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo invoca l'intervento del comune di Messina Ambiente, Ato 3. L'esponente dell'Udc evidenza come ancora una volta d'Orto Liuzzo a Ponte Gallo in località Campanella siano accadastati rifiuti di vario tipo su un'arteria ad alta densità di traffico, sono collocati peraltro cassonetti ormai vetusti, ammaccati, aperti e maleodoranti, una pessima cartolina offerta ai numerosi automobilisti che transitano sulla principale strada che sorge sulla riviera nord della città anche per bypassare la tangenziale, evitare interminabili code che sono inevitabili soprattutto la mattina e l'esborso di 1,20 per entrare e uscire dall'autostrada. Biancuzzo chiede un immediato intervento di bonifica a salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente, l'eliminazione della spazzatura sparpagliata dal vento ai bordi della strada, la disinfestazione e la derattizzazione dell'area dal momento che topi e insetti proliferano indisturbati, oltre alla sostituzione dei cassonetti ormai logorati. Secondo il consigliere del sesto quartiere andrebbe inoltre predisposto un sistema di videosorveglianza per rascoraggiare gli incivili che continuano indisturbati a creare discarichi a cielo aperto, utilizzando il territorio come una grande pattumiera e sfruttando anche l'assenza di adeguati controlli. Biancuzzo sollecita infine un intervento del direttore regionale dell'ANAS anche perché i sacchetti, accadastati in alcuni tratti, hanno ormai invaso la carreggiata della strada statale 113 con tutti i conseguenti rischi del caso.